Attivare la procedura di stabilizzazione del personale precario dell'ASP e concludere così l'iter di assunzione. Lo hanno chiesto i vertici del sindacato Nursind, sollecitando la pubblicazione della graduatoria delle progressioni economiche orizzontali, che consentono un avanzamento economico all'interno della propria fascia di inquadramento. E allo stesso tempo il sindacato sollecita la pubblicazione del bando per assegnare le risorse del 2022. Una situazione di stallo che ha suscitato non poche lamentele da parte dei lavoratori, come spiegato dal segretario territoriale del Nursind Giuseppe Provinzano e dai delegati sindacali aziendali Osvaldo Barba, Domenico Corfu, Ignazio Curto, Salvatore Disca, Orazio Maganucco, Andrea Maire e Patrizia Messina. Abbiamo anche contattato l'ASP per avere maggiori dettagli su eventuali sviluppi, ma non abbiamo ricevuto risposta. Restiamo comunque a disposizione per i chiarimenti del caso.